Solo la dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino al sorrimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe B. Ultime ore e ultimi fuochi di una campagna elettorale gelida e non solo per le temperature, la macchina del voto si scalda, nelle scuole chiuse, prima per il ghiaccio, ora per le elezioni, si cominciano ad allestire i seggi. Domenica dalle 7 alle 23 anche l'Irpinia parteciperà al rinnovo di Camera e Senato, con quale affluenza è la vera incognita delle ultime ore e da qui il moltiplicarsi di appelli agli indecisi. Per votare sarà bene che gli elettori comincino a tirar fuori dai cassetti la tessera elettorale, verificare di averne ancora una e che gli spazi per le attestazioni di voto non siano esauriti. In questi casi, per esprimere la propria preferenza, andrà richiesto un duplicato. Ma come si vota? Giova ribadirlo. Gli elettori riceveranno due schede, una per la Camera di colore rosa, l'altra gialla per il Senato, ma bisognerà aver compiuto almeno 25 anni per votare il Senato. In una sola scheda due meccanismi di voto e tre modi per votare. Ma procediamo con ordine. Alla Camera come al Senato si potrà scegliere di votare i candidati dell'uninominale, già scritti in maiuscolo nei rettangoli in testa ai simboli. Chi prende anche un solo voto in più degli altri candidati risulta eletto in Parlamento. Oppure è possibile votare per una lista tracciando un segno sul simbolo del partito prescelto. L'elezione dei candidati del listino bloccato, anche questi già scritti, avverrà in proporzione ai voti ottenuti. Si può votare anche un candidato uninominale o un simbolo del partito collegato, se si trova nello stesso schieramento, per privilegiare una lista anziché un'altra. Quello che non si può fare è il voto disgiunto, ovvero scegliere un candidato e un partito che non siano collegati tra loro. Attenzione in cabina a non sovrapporre le due schede realizzate con carta carbone. Sulle schede potrebbero risultare segni che annullerebbero il voto. Le schede avranno un codice alfanumerico che il presidente del seggio verificherà prima di inserire la scheda nell'urna, un sistema antifrode predisposto dal ministero per evitare brogli.